Weekend che da tradizione chiude settembre braidese. Al calar della sera di sabato 28, concerti, note dei campioni con la consegna della cittadinanza onoraria al cestista Alessandro Abbio, proloco in città, street food sotto l'ala del gusto, spazio giovane fino ad arrivare per i più nottamboli e mattinieri al concerto al sorgere del sole al parco della Zizzola. Domenica 29 viaggia la scoperta dei cortili storici che faranno da scenario all'itinerario enogastronomico e tra le tante proposte in città. Per tutta la giornata visite guidate, mercato dell'enogastronomia di qualità, musei aperti e gratuiti, sport in piazza, il treno a vapore, desbarassuma, concerti nella piazza della musica, oltre alla versione young dell'iniziativa organizzata dai ragazzi del Consiglio Comunale dedicata agli under 14. Quest'anno da cortile a cortile diventa ancora più sostenibile e i biglietti per partecipare all'itinerario enogastronomico potranno essere infatti anche acquistati sulla piattaforma www.braeventiticket.it con la possibilità di pagare il biglietto da un massimo di 28 euro a un prezzo minimo di 20 euro, con costi che scenderanno progressivamente al crescere delle prenotazioni online. Domenica 29 settembre a partire dalle ore 17 presso il castello del Roccolo di Busca avrà luogo la sfilata di moda e presentazione della collezione autunno-inverno 2013-2014 di Maison Fou, di Sara Signorile e Matelier di Mariella Serra. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione culturale Marco Valdo. La sfilata si svolge anche grazie alle scarpe e accessori fornite dal negozio di Cuneo Cenerentola, ai cappelli in feltro naturale della Vallestura realizzati dalla modista e cappellaia Romina Dogliani, all'illuminazione dello spazio luce di Daniele Balangero, Minusier e alle musiche di Lower Lever Bureau. Seguirà la vendita diretta dei prodotti ed un rinfresco. L'ingresso è libero. Domenica 29 settembre con saluzzo inedita si andrà sulle tracce di illustri donne saluzzesi. Dalla nota figura di Griselda alla medievale Magellona, dalla celebre Marchesa Margherita di Foix alla monaca Agnese. Dalla francese Margherita di Russi a Glorizia Cavassa. Per giungere infine all'aristocratica poetessa e scrittrice Diodata, personaggio di rilievo del romanticismo in Piemonte. La visita che partirà dall'ufficio turismo IAT di Piazza Risorgimento alle 15.30 sarà condotta dalla guida turistica dell'associazione La Grisaille. L'iscrizione alla visita guidata costa 8 euro ed è comprensiva degli ingressi. La visita sarà realizzata con il numero minimo di 10 iscritti. Per effettuare l'iscrizione occorre contattare l'ufficio turistico IAT, Piazza Risorgimento 1. Telefono 0175 46 710, email iat.chiocciolacomune.saluzzo.cn.it. La sagra rievoca l'antica tradizione pastorale secondo la quale verso la fine di settembre i margari scendevano in paese a vendere il formaggio prodotto in Alpeggio durante l'estate. Dalle ore 9 per tutto il giorno mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici. Dalle ore 15 degustazione di formaggio raschera e del burro di Ormea fatto sul momento nella birra era, tipico contenitore usato per fare il burro. Dalle ore 16 alle ore 18 circa visite gratuite al museo etnografico Alta Valtanaro, La Casa, sito in via Madonna degli Angeli. Il comune di Mondovi sabato 28 settembre promuove una notte al museo, iniziativa che offre la possibilità di visitare i musei di monumenti del sistema urbano Mondovi in orario serale e in modo gratuito. Dalle 20 alle 23 si potranno visitare gratuitamente il museo della ceramica, il museo della stampa, la torre civica del Belvedere, le sale del Vescovado, la chiesa della missione e l'antico palazzo di città. Due le iniziative collegate, alle 21 al museo della ceramica va in scena Cuore di Bambola, una soffitta aperta al cielo, pièce teatrale proposta dall'associazione Le Cercle Rouge, mentre nell'antico palazzo di città il pubblico potrà visitare la mostra Il CAI Mondovi in mostra, che ripercorre le vicende della sezione monregalese del club alpino italiano, con immagini e documenti anche inediti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.